Una situazione che la senatrice PD Stefania Pezzopane non esita a definire caffchiana. Da un lato il parere, formale, chiesto al Ministero del Lavoro, che dal via libera, ai rinnovi degli oltre 50 precari del Comune dell'Aquila, inderoga il Jobs Act. Dall'altro la dirigente Coluzzi, che, sentito informalmente il MEF, afferma di avere buone ragioni per non firmare il provvedimento di proroga. Spettatori, attoniti ed increduli per il rimpalo di responsabilità, i dipendenti dell'ente, impiegati nei settori più disparati, compreso quello strategico della ricostruzione, che dal 1 ottobre sono rimasti a casa. Una situazione di impassa, da cui sembra difficile uscire, nonostante gli impegni presi dall'amministrazione comunale, per risolvere una situazione affrontata forse con colpevole ritardo. Sinceramente non riesco a capire cosa si stia aspettando. L'amministrazione comunale ha chiesto al Ministero del Lavoro un interpello con dequesiti sulla possibilità di prorogare i precari in deroga al Jobs Act. Il Ministero del Lavoro ha risposto prontamente di sì. Non c'è dubbio sul fatto che si possa derogare al Jobs Act. La senatrice si dice vicina al sindaco e non nasconde critiche nei confronti della dirigente, che non può essere costretta ad apporre il proprio sigillo sull'atto di proroga, anche se è necessario individuare una via d'uscita, per non incorrere in una paralisi degli uffici. Sto vicino al sindaco, anche questa mattina ho chiamato il Ministero. Mi ribadiscono che non è loro materia, che è materia del Ministero del Lavoro e che loro non hanno nulla da sconfessare al Ministero del Lavoro. Sarebbe stato ben più grave se il MEF avesse risposto, avesse detto no, il parere del Ministero del Lavoro non va bene. Il fatto che non aggiunga un parere è perché conferma quello del Ministero del Lavoro.